E' arrivata ieri sera la sentenza per l'infortunio sul lavoro che il 13 settembre 2011 costò la vita Salvatore Bennardo, muratore pratese di 47 anni. Precipitò nel vuoto mentre stava lavorando sul tetto della piattaforma maciste nell'area dell'inceneritore di Montale. Il giudice Luca Gaspari del Tribunale di Pistoia ha condannato a tre anni per omicidio colposo i tre imputati, Giorgio Perruccio, all'allora direttore generale del CIS, difeso da Cecilia Turco, Graziano Tesi, difeso da Giuseppe Castelli, dirigente area territoriale del CIS, e Maurizio Capocci, difeso dall'avvocato Andrea Nicolai, tecnico con mansioni di coordinamento interno all'impianto di Montale. La famiglia di Bennardo, che si è costituita parte civile, è tutelata dall'avvocato Luca Brachi del Foro di Prato. Lo stesso legale ha citato il CIS, difeso dall'avvocato Panelli, quale responsabile civile. Il giudice ha stabilito il risarcimento del danno che i tre condannati e il CIS dovranno corrispondere alle parti civili, la moglie e i figli che all'epoca della tragedia erano minorenni, 16 e 13 anni. Nella sentenza è specificata la condanna dei tre in solido e del CIS, chiamato in causa per il risarcimento del danno che sarà quantificato davanti al giudice civile, mentre la provvisionale è stabilita di 100.000 euro a testa per i due figli e per la moglie. L'udienza preliminare risale al 2016, mentre dopo il rinvio a giudizio dei tre imputati, il dibattimento ha preso le mosse nel 2017, per finire ieri con la sentenza di primo grado. La vittima, Salvatore Bennardo, abitava a Figline di Prato, in via di Cantagallo, dove aveva anche la sede legale dell'omonima impresa edile. Quel tragico giorno di sette anni fa, l'uomo era impegnato sul tetto di copertura dell'area di stoccaggio, dove stava effettuando un sopralluogo in vista di un intervento di riparazione dopo che la copertura era stata danneggiata dal forte vento. Poi il volo fatale da un'altezza di 10 metri che gli costò la vita.